Sono qui in Accademia dai Fratelli Bazar, la Bazar Academy, sicuramente una delle accademie più interessanti sotto il profilo sia di attrezzature, quindi ben attrezzate, ma anche come feeling, devo dire. Ho voluto capire cosa ci sta tutto dietro, la filiera del caffè, dalla piantagione fino appunto il risultato in tazza. L'avere messo in piedi un'Accademia come hanno fatto i fratelli Bazar ha una sua grandissima valenza nell'evoluzione di un mondo come il nostro che sta crescendo ormai geograficamente parlando davvero in tutto il mondo. Bazar Academy a Trieste, nell'ambiente dell'Europa, è sicuramente un centro di formazione e di riferimento per il settore caffèicolo che offre corsi di formazione professionali su tutta la filiera di produzione del caffè. Dalla latte art al caffing, vari metodi di estrazione, fino a toccare con mano il processo di tostatura. Sicuramente Trieste è la capitale mondiale del caffè, quindi è coerente che il Bazar Academy sia qua. Sostanzialmente però come struttura è una struttura che potremmo trovare dove? Una grande metropoli del mondo. Sono contenta di aver avuto la possibilità di capire la macinatura, come fare un buon montatura del latte. Ci sono tanti fattori per poi avere un ottimo caffè che viene sfruttato. Quello che mi ha colpito è stato molto l'organizzazione di come è fatta e soprattutto di come ci si sente quando si entra. Questa è una cosa fondamentale secondo me quando si inizia a fare un corso, cioè bisogna essere a proprio agio quando si entra in una struttura. hanno degli studi bellissimi, veramente attrezzati e ovviamente con del personale anche molto gentile e preparato soprattutto.